6800 espositori provenienti da 98 paesi hanno presentato la propria offerta in una superficie espositiva di quasi 300.000 metri quadrati a 160.000 visitatori professionali giunti da tutto il mondo. A Colonia, in Germania, dal 5 al 9 ottobre, si è svolta la Biennale Anuga, la manifestazione leader a livello mondiale del settore food and beverage, a cui ha preso parte anche la Puglia. La presenza italiana alla Kermesse è stata la più numerosa, ben 1.043 espositori, più del doppio degli spagnoli e quattro volte quelli francesi. 825 le aziende tedesche che hanno fatto ricorso alla fiera come piattaforma di business. La Puglia, anche quest'anno, si è confermata tra i protagonisti più attivi. A promuovere il paniere dei prodotti d'eccellenza agroalimentare della regione, 40 aziende ospitate nella collettiva dell'ICE, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e la cui partecipazione è stata organizzata dall'Assessorato alle risorse agroalimentari della regione Puglia. Sono particolarmente contento perché siamo riusciti a mettere insieme 40 aziende, 40 produttori pugliesi, li abbiamo inseriti tutti nella stessa area e soprattutto sono ancora più contento perché abbiamo potuto noi come Assessorato supportare queste iniziative in termini economici ma anche in termini promozionali. Da Anuga si attendono buoni risultati dunque, visto l'interesse crescente dei buyer di tutto il mondo nei confronti dei prodotti agroalimentari pugliesi. La conferma di un trend positivo che negli ultimi anni ha visto consolidare il ruolo di un territorio rurale e agricolo che racchiude un patrimonio enogastronomico ovunque richiesto e apprezzato per qualità, gusto e sicurezza alimentare. E proprio qualità e sicurezza alimentare sono state protagoniste di un workshop che si è tenuto lunedì 7 ottobre a Colonia, nel centro congressi della fiera, dedicato al marchio collettivo comunitario con indicazione territoriale prodotti di qualità a Puglia. All'incontro hanno partecipato aziende pugliesi, stampa e addetti ai lavori del mercato tedesco, che hanno ribadito ancora una volta la necessità di lavorare per assicurare qualità e tracciabilità dei prodotti in grado di garantire consumatori e produttori.